Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 21 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com Grazie a tutti! Amici di Scratch e ben ritrovati, settimana questa dove dedicheremo la maggior parte del tempo al fuoristrada, al mountain bike, avremo tante interviste. Come al solito sono vestito sportivo, non per mio volere ma perché la Elenia Lazzaro qui presente mi costringe e poi mi fa anche delle cose strane. Parleremo anche con lei del filmato virale, oramai quasi mezzo milione di persone che hanno guardato. Sono starrefatto. Ciao Elenia! Buonasera a tutti! Diciamo ai nostri telespettatori per favore che sei tu che mi costringi. Abbiamo fatto anche un sondaggio, ha votato il popolo e quindi deve adeguare. E quindi il popolo è il sovrano. Bene, non mi resta altro che mezzo milione di persone non sono poche. No. E soprattutto vuol dire che 500.000 persone hanno visto la tua filippica, che poi è un po' il trend da inizio stagione, quella della prudenza, quella di ascoltare e non fare i fenomeni, quella di non dare né giudizi né consigli se non ne siamo certi, però ha riscontrato un successo enorme. Penso che neanche forse no. Io so che tu forse sotto sotto ci credi. No, perché non è nato con l'intento di diventare virale, è nato come un video da mandare su WhatsApp, era troppo lungo, l'ho messo sul mio profilo, poi dal mio profilo ho visto che si è moltiplicato e poi tu hai avuto l'idea, si mettiamo anche su Scratch, ma era una domanda, era una domanda per il pubblico del ciclismo, poi ovviamente adesso è diventato virale, quindi molti arrivano sulla bacheca di Scratch o sulla mia pagina, non sanno neanche chi siamo, questo è il bello del club, abbiamo preso tante persone, io volevo ringraziare perché veramente c'è il mondo che mi sta invitando dappertutto ragazzi, ma veramente, cioè io ho detto semplicemente quello che penso e soprattutto, e Nicola può dirlo, non è una cosa, cioè io veramente sabato ero molto amareggiata, tant'è che domenica ho cambiato giro. Ne avevamo parlato proprio con Odirocco ancora due settimane fa, ma con l'avvocato Martini che la settimana prossima lo risentiremo, proprio alcuni comportamenti di questi personaggi vanno a inficiare quello che è il sacrificio degli under, dei dilettanti che lo fanno per lavoro e dei professionisti, quindi il messaggio credo sia sempre stato coerente. Ma sì, cioè infatti è un video che va visto in ottica di quello che abbiamo fatto a Scratch per due mesi e mezzo, cioè ti devo dire la verità, io ero molto arrabbiata perché ho detto vuol dire che sono due le cose, non ci guarda nessuno, però non è così perché i dati dicono il contrario, oppure si sanno le regole però è più facile trovare delle altre scuse per non seguirle. È una piccola parte, è quella piccola parte che può danneggiare un mondo meraviglioso come quello del ciclismo, noi abbiamo avvicinato anche Tommaso Lupi, il nostro direttore tecnico della nazionale di mountain bike, di BMX, scusatemi, BMX io sono affezionato perché è un po' come i velodromi e potrebbe essere lo scacco matto, l'abbiamo detto ancora, mi parla la prima puntata, per poter ripartire, perché al di là poi dopo Ilenia dei consigli oppure di quello che ci si aspetta nelle previsioni di partire in maniera diversa o trovare le alchimie per poter far partecipare i ragazzi, il mio obiettivo è che lo sport riparta e riappropriarci della nostra vita, con regole diverse, ma soprattutto lo sport che ne possono beviciare sia gli atleti in sicurezza che coloro che guardano. Quindi sentiamo questa bella intervista, Tommaso Lupi è un ragazzo giovane, parla attraverso un linguaggio moderno, ma soprattutto sa quello che dice. Parti di slancio, contrasta la fatica, ritrova le forze, Pro Action, integratori per lo sport. Buongiorno commissario tecnico, buongiorno Tommaso, intanto come stai? Buongiorno a voi, grazie dell'invito, io sto bene. E ora mi hai diritto, mi hai detto, come stai? Ma anche moralmente, eh? Giusto, giusto, giusto. No, no, io sto bene, fortunatamente sono in salute e ho continuato a lavorare anche se a distanza, però sto bene, tutto bene. Tommaso, parliamo di BMX che comunque si può anche sintetizzare come la pista, quelle discipline che comunque in questo momento, stiamo parlando oggi, si potrebbero già cominciare a dire, vabbè, insomma la distanza di sicurezza esiste, c'è la possibilità di far allenare intanto i ragazzi e perché no, anche cominciare a fare qualche gara, non dico i campionati del mondo, però anche qualche gara regionale, insomma, non sarebbe male per far incominciare a muovere sta macchina che è da troppo tempo che ferma. Guarda, sul fatto che sia da troppo tempo ferma, sono pienamente d'accordo. Attenzione che non voglio dire che dobbiamo partire all'arembaggio, eh? Massima sicurezza e massimo rispetto delle regole, però è essenziale che ripartiamo perché sono due mesi che siamo fermi. Gli sforzi dei vari staff tecnici privati e nazionali sono stati importanti per tenere in attività i ragazzi e gli sforzi dei ragazzi stessi sono stati imponenti perché, anche solo partendo dal fatto che non tutti hanno attrezzature di alto livello a casa, ma la regola principale era stare a casa e quindi una soluzione andava trovata. Sono comunque contento e tranquillo perché i ragazzi li ho sentiti molto meglio dell'inizio, a inizio quarantena li ho sentiti un po' preoccupati, un po' confusi come eravano tutti. Però dai, a riunione di una settimana fa li ho sentiti organizzati bene, positivi, tranquilli, qualcuno si è preso tempo per recuperare un po' le energie, altri hanno lavorato su cose che di solito non abbiamo tempo di fare, quindi in realtà bene. Ripartire, ripartire subito, noi come BMX siamo già ripartiti in realtà, a livello però di categorie championship come le chiamiamo noi, quindi junior elite. Gli atleti sono entrati in pista con tutte le regole che servono, distanziamento, numero ristretto di atleti, giri singoli, giri di tecnica, assolutamente non per esempio partenza e per quello che riguarda BMX, quindi vuol dire partire in otto, l'abbiamo evitato assolutamente. Adesso si tratta solo di ufficializzare anche un ritiro nazionale per tornare a fare gruppo con tutte le precauzioni possibili. Diciamo che il BMX tra caschi, caschetti, visiere potrebbe essere forse una di quelle discipline più protette delle altre e va bene, non andiamo a polemizzare, però io credo che comunque anche questo governo mio, perché va bene, ha chiuso tutto, era giusto, giustificabile, il problema è che lo sport ha delle responsabilità che vanno oltre al mondo sportivo, perché in questo momento c'è la mancanza delle attività sportive perché comunque mutualizzavano quello che era il tempo libero dei ragazzi. Detto questo, Tommaso, una riflessione possiamo farla su quello che sarà il futuro dopo il Covid, vale a dire che questi centri, che adesso vediamo a pannaggio di Iverona, Perugia, in qualche maniera forse Padova e Creazzo, è una disciplina tutto tondo che può interessare tutta l'Italia e può dare veramente delle grandi possibilità a un tessuto giovanile che possa incontrare e a farsi affascinare da questo mondo che poi per me è molto fashion, molto bello, si avvicina molto al moto mondiale, anche nelle caratteristiche degli atleti, sono molto più votati a fare anche da personaggi, quindi sarebbe importante secondo me muovere questo piccolo tassello in maniera importante. Guarda, hai citato il moto mondiale e io sono super fan del moto mondiale, quindi sono assolutamente d'accordo con te, è una sorta di paese che si muove il BMX, sia italiano che internazionale, quindi avrebbe tutte le possibilità per riorganizzarsi senza grossi rischi. Sono anche sincero nel dirti che il rischio zero è impossibile, ma è impossibile dappertutto, quindi dobbiamo tenere presente che un minimo di rischio c'è, come c'è sempre stato per altri aspetti, quindi si è trovato solo di riorganizzarsi in totale sicurezza. Il fatto di ripartire è essenziale a livello anche di gare, noi abbiamo possibilità di organizzare comunque delle manifestazioni che onestamente non so quando si potrà fare. Così, ragionando insieme a te a voce alta, posso dire settembre, ottobre, la vedo dura prima. Perché? Perché ci sono pareri discordanti, sia sul riprendere l'attività adesso dopo due mesi di stop, si sta parlando di congelamento categorie, analisi per il 2021 e compagnia, quindi ci sono tanti aspetti da mettere in ordine prima. Però bisogna ripartire e secondo me, avendo la possibilità di stare dentro a un circuito chiuso, la sicurezza possiamo garantirla. Quindi io mi auguro che a settembre ci sia l'ufficialità di ripartire quantomeno in Italia o comunque con delle gare a livello europeo. Non ti dico Coppa del Mondo e viaggiare sempre come abbiamo fatto. Quanti sono gli appassionati iscritti al BMX in tutta Italia? Ma gli iscritti al BMX sono sotto i mille se dobbiamo tenere presente anche tutti quelli che non fanno attività agonistica. Perché quello che ho notato nelle varie scuole di ciclismo di questo periodo, di questi ultimi anni, è che c'è stata un'affluenza anche da parte di mountain biker, per esempio, che fortunatamente hanno capito che il BMX è la base di tutto il ciclismo a livello tecnico. E infatti quando tu mi dici che il BMX potrebbe trainare una ripartenza, io sono assolutamente d'accordo con te e mi piacerebbe pensare che il BMX possa trainare realmente una ripartenza e soprattutto possa aumentare i tesserati generali. Perché? Perché sarebbe veramente il momento di spingere anche a livello di bici nazionali, braille strada, downhill, trial... Un mercato, anche un mercato, anche un mercato. Esatto, anche un mercato per far capire che la BMX è alla base di tutto a livello tecnico e quindi anche solo fare dei corsi in più con i bambini, aumentare il numero, fare una condivisione con le altre discipline, si parla di multidisciplinarità, quindi potrebbe essere veramente un trampolino di lancio per il BMX e un grande aiuto per tutte le altre discipline. Tommaso, un'ultima domanda. Tu hai citato mille tesserati su pochissimi impianti che funzionano veramente, quindi voglio dire tantissima roba, ma tantissima veramente. Si potrà, anzi, io credo che si dovrà in un futuro cercare di pensare a fare qualche impianto coperto, perché credo che questa disciplina d'inverno potrebbe veramente riempire come negli anni Sessanta i velodromi. Sono pienamente d'accordo. Sarebbe veramente un grande aiuto di impianti indoor. Ce ne sono comunque pochi anche all'estero, per ovvi motivi di investimento, però sarebbero un grande aiuto per anche solo pensare di continuare l'attività e fare degli eventi, anche solo degli eventi durante l'off-season, quindi da fine ottobre a fine febbraio. Per adesso noi ci troviamo a spostarci all'estero, in Francia, per fare delle gare indoor. Loro ne ospitano circa due o tre. Oppure c'è un impianto della British Cycling a Manchester che ospita un impianto che fa anche Coppa del Mondo. Quindi sicuramente un indoor per noi sarebbe un grande aiuto, un grande step. Guarda, intanto ti ringrazio, faccio un'ultima considerazione con te, voglio condividerla, nel senso che forse oggi abbiamo capito qual è l'importanza dei figli e dei genitori in questo momento di lockdown. Abbiamo visto come è saltato il banco e come questi figlioli non sapevano dove andare. Ecco, credo che forse un domani anche Memori da questa grande e brutta avventura possiamo capire che nello sport c'è uno status, un'intelligence dove si prende cura di tanti ragazzini e tre, quattro ore al giorno farli provare, farli allenare vuol dire essere come degli asili a gratis. Per cui voglio dire, mi piacerebbe tanto andare avanti su questa storia e non mollarla, caro Tommaso. Guarda, io ho pienamente d'accordo con te e mi auguro anch'io di vedere quello che stiamo dicendo perché lo sport è essenziale per la salute non solo fisica, ma anche mentale. Purtroppo lo stiamo un po' abbandonando per quanto riguarda le fasce più piccole per tanti motivi, quindi sarebbe veramente utile. Io mi auguro e spero di chiacchierare ancora con te di queste cose. Volentierissimo, noi siamo qua e battagliamo fino alla fine perché è un diritto lo sport e oltretutto è sana condivisione, è sana convivenza nella società civile. Io ti ringrazio, caro Tommaso, ti auguro tutti i successi di questa terra. Speriamo di vederci al più presto di Visus per un abbraccio veramente da biker. Volentieri ti aspetto a una delle prime gare. È vero col giubbotto, è vero col giubbotto di pelle. Grande. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Abbiamo veramente trasmigrato in queste settimane, devo dirvi la verità e credo che Ilenia confermerà che non è stata assolutamente una passeggiata di salute per noi perché abbiamo dovuto lavorare come giusto che sia informandosi tanto, tantissimo per non fare figuracce. Per cui abbiamo evitato di dare consigli, abbiamo parlato di mascherina, abbiamo sempre detto una cosa molto pulita, molto scevola da ogni condizionamento, comprate mascherine dove volete. Noi ne abbiamo rappresentato due aziende che conosciamo e ci fidiamo per riutilizzare le mascherine. Io credo che poi un domani questo mercato veramente virulento si farà male a se stessa perché adesso vedo che tutti quanti vendono mascherine, anche coloro che una volta facevano altri lavori e dico altri lavori senza soffermarmi, cara Ilenia. Nell'onda emozionale l'uomo non perde mai o la persona, l'umanità non perde occasioni per fare brutte figure, pochi devo dire, però a me queste delle mascherine ho visto il volto di persone che dicono ma io là ci vedo l'affare. Ho sentito ahimè l'intervista della nostra ex presidente della Camera Irene Piuretti che ha detto ma sai bisogna un po' ringraziare il coronavirus perché è un'opportunità commerciale. Capisco le esigenze del commercio però siccome ci hanno fatto passare la mascherina come salvavita insomma è come per quelli che devono prendere le pastine per non morire di infarto. Assolutamente. Assolutamente. È vero? Sì. È una questione credetica. Un discorso che lo fa una piega. Anche perché vabbè può aver avvantaggiato qualche categoria però ha chiuso praticamente il 90% dell'economia in Italia quindi secondo me non è stata un grande affare. Eh mamma mia signore Dio cresciamo e noi vogliamo farlo insieme alle persone che hanno intelligenza. Abbiamo avvicinato Dario Acquaroli sempre l'Elene che lei mi moltipica le telefonate specialmente devi chiamare questo o quell'altro perché conosce il mondo e Dario Acquaroli oltretutto triplice campione nel mondo di mountain bike un personaggio che devo dire la verità potrebbe farsi valere nella sua spocchia chissà invece è una persona veramente molto a modo ha messo non all'asta la sua bicicletta del mondiale del 96 ha fatto una sorta di pesca di beneficenza ed è stata un'idea eccezionale mi pare ottimo risultato ha tirato su veramente una bellissima cifra e quindi era giusto visto che abbiamo dato un po' seguito a molte iniziative di beneficenza dare anche spazio a questa sentiamo dicono che la tecnologia abbia raggiunto il suo limite finché qualcuno non supera quel limite dicono che un buon prodotto non debba essere cambiato finché qualcuno non ne crea uno migliore grazie Dario per intervenire in questa trasmissione tutto bene come stai? sto bene nonostante tutto direi che io sto molto bene sono fortunato tu stai molto bene su una terra dove bene non è stata abbiamo capito tutti che Bergamo è stata veramente dilaniata da questo virus sì per un motivo o per l'altro senza entrare nei dettagli siamo stati colpiti parecchio effettivamente ancora siamo in piena emergenza perché non ne siamo ancora usciti del tutto però stiamo reagendo bene diciamo così la vostra è una terra di quelli che piangono poco si tirano su le maniche piangendo piangendo tanto è un po' il carattere che hai dimostrato tu tre volte campione del mondo c'è la storia del mountain bike ma non te la sei mai tirata sei un filosofo della vita e questo ti rende veramente tanto merito ma sai noi noi bergamaschi siamo fatti così no il motto è Bergamo di Sasso perché siamo siamo in mezzo alle montagne come tutti i montanari come tutta la gente del nord e con tutto il nord Italia siamo abbastanza moderati nelle nostre esternazioni anche voi veneti direi che avete reagito con compostezza a tutto quello che stava succedendo e di conseguenza ci accomuna questa cosa essere in qualche modo abbastanza moderati e tranquilli e reagire tirandoci sulle maniche non siamo abituati a far questo non si piange strillando si piange sotto voce si piange in solitudine piuttosto vero e questo la dice molto lunga a parte che esprimo la mia vicinanza a tutti voi e a tutto il mondo che è stato colpito da questo virus tu hai messo a disposizione per mi pare la croce rossa per le ambulanze una bicicletta che per te conta molto la bicicletta del mondiale del 96 a Cairz si è una bicicletta è un cimeglio importante per me uno dei pochi che conservo perché non sono mai stato uno che esibiva o che esibisce ancora oggi trofei medaglie maglie e quant'altro a casa mia non c'è praticamente nulla uno che entra e non conosce il mio passato non sa effettivamente che è la casa di un ciclista avevo questa bicicletta molto importante per me perché prima di tutto la bicicletta con cui ho vinto il mondiale di Keynes davanti a un Miguel Martinez e a un Cadel Evans quindi due due signori del ciclismo e un bel ricordo anche perché mi fu donata dall'allora mio presidente Felice Gimondi quindi capisci che per me era veramente un cimeglio non la esibivo non l'ho mai esibita troppo però ce l'ho era mia e quando ci hanno chiuso in casa come tutti gli italiani e poi qui a Bergamo appunto c'era questa situazione molto grave ho pensato di essere quasi impotente un bergamasco abituato ad assi da fare e a non poter far nulla perché era inchiuso come tutti gli altri e allora ho deciso bene di prendere questa mia bicicletta di metterla in qualche modo all'asta poi sono stato aiutato chiaramente dall'azienda per cui lavoro la vittoria con tutto l'ufficio marketing abbiamo trovato una soluzione simpatica nel dolore la situazione simpatica è quella di non metterla proprio all'asta ma in una sorta di lotteria questo ci ha permesso appunto di raccogliere più fondi perché non vincolava alla puntata più alta come succede nelle aste ma semplicemente con una donazione che partiva da 10 euro fino ai 2500 uno poteva acquistare un tot di biglietti chiamiamoli così per l'estrazione appunto di questa bicicletta che poi è finita tra l'altro a un grande amico in Veneto e quindi è una storia nella storia ci puoi dare il nome in esclusiva per favore sì sì Massimo Paniguel mamma mia grande Massimo è andata Massimo Paniguel che a sua volta aveva raccolto più di 2000 euro 2500 euro con la vendita di maglie di ex campioni del mondo di campioni dello sport come del Piero e quindi anche qui diventa una storia nella storia appunto lui ha raccolto questi soldi per me ed è andato ad aggiudicarsi la mia bicicletta quindi mi fa onore e piacere guarda una storia veramente meravigliosa da scriverci un libro perché c'è dolore c'è sentimento e c'è tanta sensibilità Dario io avrei voglia di conoscerti al più presto possibile qui in studio perché tu potresti raccontare veramente delle bellissime storie ma d'altronde la gente che ti guarda da casa vede i tuoi occhi sono splendidi e io per quel che ti conosco qualcosa hai fatto qualcosa di importante è privarsi di una bicicletta importante come la tua credo che per te sia stato comunque un grande sforzo perché parliamoci chiaro sì è stato un grande sforzo poi ripeto quando arrivi comunque a realizzare io ho realizzato una cifra che per molti potrebbe essere poca roba ma per me è molto quasi 25 mila euro che ho donato appunto ad un'associazione una piccola associazione che opera nel nel compressorio bergamasco quindi nel in tutta la bergamasca con le ambulanze non ho voluto dare questi soldi a grandi associazioni perché so che probabilmente vanno nel calderone poi dopo non si sa bene che fine facciano non me ne vogliono io ho scelto è legittimo è legittimo sì sì ho scelto una realtà locale che mi ha garantito fin da subito che dimostrerà a tutti a tutti quelli che hanno messo poco o tanto cosa faranno con questi soldi e oggi credo che abbiano in qualche modo dato un acconto per l'acquisto di una nuova ambulanza pediatrica quindi faremo del bene anche lì e questo mi rende molto orgoglioso poi la bicicletta è andata ad un amico quando avrò voglia di vederla basterà andare a fare un giro in provincia di Treviso e la vedrò quindi non è un problema andremo tutti quanti a Montebelluna beh guarda Dario io ti ringrazio tanto rinnovo l'invito avrei voglia di conoscerti di Visus al più presto molto volentieri grazie per quello che hai fatto è una pagina importante anche questa anzi soprattutto questa grazie grazie a voi grazie e buona giornata grazie a tutti ben rientrati in studio amici di Scratch abbiamo sentito Dario Acquaroli lo ringraziamo perché quella zona è stata colpita in maniera tremenda tra poco sentiremo anche Martino Fluet che ha una visione completamente diversa un po' dalla nostra ma è giusto dare comunque voce a tutti oltre a essere un grande biker è giusto che tutti possano dire la loro noi siamo attenti perché vogliamo anche abbiamo la spocchia di indirizzare questa trasmissione sotto dei canoni che siano ben prestabiliti abbiamo solcato una trincea non vogliamo uscire non vogliamo come si suol dire fare la pipì fuori dal vasino però resta pure il fatto che noi abbiamo racchiuso il legno tutto in categorie tu ne soffri da una vita come tantissime donne come la botteri a un uomo non avrebbero dato quell'aggettivo di sciatta cioè voglio dire a parte che è una donna sexy a me piace tantissimo e l'ho scritto privatamente va tutta la mia non solidarietà gratitudine per quello che fa però dobbiamo sempre mettere le categorie anziani io conosco anziani come dicono gli altri 80-82 anni che hanno fiorfiori di industrie e che ancora oggi sono capitanate da loro faccio i nomi Renato Giusti la storia della Club 88 ma non soltanto ci sono anche Dino Signori Colnago 87 anni da poco ha mollato lo scettro ci dispiace tanto ma quali anziani sono una risorsa per quelli che hanno la pensione aiutano i ragazzini i nipoti cioè basta no beh si pensa sempre purtroppo per categorie quindi si va si cerca non lo so se è un modo per magari scongiurare la paura potrebbe essere anche quello perché comunque sai se tu metti una persona dentro una categoria se tu non fai parte di quella categoria allora sembri indedente però non è così è così perché la dimostrazione è stata che insomma si sono malati tanti giovani insomma abbiamo intervistato anche noi Alessandro Saravalle non è l'unico tanti medici ce ne sono anche degli altri ci sono tanti medici tanti infermieri quindi giovani quindi ovviamente categorizzare è sempre sbagliato ricordiamo che questo virus che credo che se ne andrà via come tutte le cose brutte che ce lo auguriamo è un virus che ha colpito la società civile in un lasso di tempo molto molto breve è quello che ha mandato in tilt la macchina oggi noi possiamo avere questa esperienza ne faremo buon tesoro avremo degli ospedali che chiaramente preferiamo siano vuoti ma in occasioni come questa non avremmo e non avremmo più l'emergenza che abbiamo abbiamo vissuto in questi giorni abbiamo sentito Martino Fouet un gran biker e sentiamo la sua intervista ciao Martino Martino Fouet oggi si parla di mountain bike come stai intanto? vabbè di salute sto bene ho ripreso allenamenti sto anche bene fisicamente e poi a livello psicologico non è una bella situazione comunque scalpiti come un ragazzino pur avendo una certa età sei del 78 sì beh ma d'altronde sai la cosa importante sarebbe come ti senti dentro quindi poi sai anche tu che tutte le gare che tu mi hai visto partecipare l'ho sempre vissuta come come un ragazzino ma come è giusto come è giusto che sia così perché se no non sarei ancora qua è vero è vero allora forse questa domanda non so se ti piace o meno ma te la faccio uguale però penso che il mountain bike in questo momento fino ad oggi è in proiezione sarà forse quello che pagherà un maggior prezzo perché vedo che insomma le cose non stanno andando per il verso neanche giusto per il mountain bike allora dipende da che punto di vista lo vedi perché allora lasciando stare ci sono due aspetti allora sicuramente a livello economico pagherà di più perché non ha le spalle larghe come come ce le hanno la strada soprattutto la strada e soprattutto il world tour perché anche per la strada si è messi uguali le squadre grosse hanno le spalle larghe e le squadre piccole hanno le spalle stritte quindi a livello economico idem per gli organizzatori il tour ha le spalle molto larghe anzi le più larghe visto il calendario che è appena uscito e invece gli organizzatori del mountain bike no e quindi quello è una cosa però è anche vero che se guardiamo un po' diciamo l'attività del mountain bike quella un po' più risicata diciamo che paradossalmente la gara di mountain bike specialmente tipo delle specialità faccio per esempio l'enduro a cronometro da soli è una gara che potresti aver fatto praticamente anche durante la quarantena se non fosse per arrivo e partenza che si può sempre gestire le gare regionali a differenza di tour che non fanno parte dell'internazionalità quando da luglio teoricamente la federazione dovrebbe dare ok quelle che ci sono quelle che ci sono quelle che sono rimaste quelle si potrebbero fare tranquillamente perché comunque a livello locale la gente potrebbe tranquillamente correre perché comunque che è una cosa che non mi è mai andata genio di tutto questo non so ne ancora come chiamarlo però hanno fatto di tutta l'erba un fascio che non va bene perché non puoi confrontare situazioni critiche come che erano in Lombardia quelle dove c'è in Sardegna che non c'era neanche il contagio cioè quelle cose lì anche quando il virus finirà è quello io ne sono certo quando ci sarà 0-0-0 non vedo perché le gare che sono in calendario da luglio in poi non possano essere fatte dopo chiaramente a livello economico è tutto da discutere perché purtroppo quello secondo me è anche il danno più grave che è stato fatto vedi Martino proprio oggi come oggi parlare in futuro anche in due mesi parrebbe quasi di parlare di un futuro a vent'anni perché purtroppo non abbiamo certezze poi chiaramente ci vanno tutte le sicurezze anche nell'ambito sportivo però la considerazione che va fatta a parte le spalle grosse hai anche tu temi questa è una domanda che farò anche a Di Rocco se parte il calcio parte lo sport perché se non parte il calcio la vedo dura ma allora sono due cose differenti ma il punto è secondo me che bisogna andare alla base del discorso che comunque questo virus come tutti i virus finirà perché io non sono né un virologo sono un semplice cittadino però sono state manipolate tante cose e questo dal mio punto di vista ma di tanti altri perché comunque non sto a fare politica e niente però se uno avesse un po' di ragione ancora in testa capirebbe tante cose ripeto quando non ci sarà più e io in vent'anni di influenza ne ho visti venti perché ogni anno c'è la stessa e finisce ne arriva un'altra quindi per gli altri anni non è mai stato fatto niente quest'anno è stato fatto tutto sto ambaradà di cose che puoi parlare di costituzione quello che vuoi ognuno la può pensare come vuole io la mia idea me la sono fatta quindi se fossi in politica lo potrei dire ma quindi parliamo certo però a Bergamo i morti ci sono stati voglio dire il 700% voglio dire io ti dico io da cittadino qualunque mi sono fatto delle domande allora prima di tutto vorrei sapere il perché ci sono stati così tanti morti che comunque hanno un'età media molto alta ma la prima domanda che mi sono fatto quanta gente muore in Italia tu lo sai quanta gente muore in Italia beh insomma dai dati attuali questo lo scorso anno poi si può anche no scusami si può anche ipotizzare no il problema è che si sono concentrati in un mese e quindi ci ha colto impreparati il vero dramma il vero dramma credo che non sia stato tanto il virus ma quanto abbia colto impreparato non soltanto l'Italia ma anche tanti paesi del mondo e beh ma allora certo però ripeto tu sai quanta gente negli ultimi dieci anni muore all'anno sì sì certo più o meno saremo a quei livelli l'altra un po' quando andremo per l'analisi no scusami no no ma solo una domanda così tanto per fare solo un punto di partenza su uno che può ragionare poi da solo in un anno quanta genere muore negli ultimi dieci anni tu lo sai guarda io credo che siano esattamente quelli che moriranno no no ma i dati ufficiali saranno certamente uguali quest'anno come il 2020 ma non puoi non vedere oltre che sono morti tutti in una determinata e specifico momento è chiaro che se duemila persone me le occupi in un anno o in sei mesi è una cosa ben diversa da averne in un giorno diciamo che è saltato il sistema credo anche che forse a fine anno se mi fai la domanda e ti rispondo saranno anche meno i morti perché coloro che hanno avuto un piccolo febbre sono andati a farsi vedere il problema scusami e la chiudiamo qua e credo che sia il problema che ci abbia trovato scoperti un po' come dire avevamo pochi soldati perché purtroppo la gente che è morta e soprattutto i medici hanno dovuto scegliere chi salvare e chi non salvare perché era come un grande parcheggio era tutto occluso oggi credo che le cose si siano un po' più sistemate e non c'è più l'emergenza di scegliere chi vivere o chi morire credo che questa sia una questione non soltanto di cuore ma anche di rispetto per coloro che hanno dovuto scegliere chi far morire la drammaticità non credo sia stato visto che mi hai fatto la domanda il virus è stato che si è concentrato in un lasso di tempo troppo breve e quindi questo bisogna questo un domani bisognerà cercare di capire questo sicuramente però giustamente visto che questo mi giri l'argomento su questa questa cosa qua come ho ripeto in certe donne il problema c'è stato lì se ci fosse una giustizia che sia una giustizia e siccome lo sapevano molto molto prima e non hanno organizzato noi di solito sai quando andiamo in ritiro come si fa se sei in ritiro con la nazionale se sei in ritiro con qualcuno appena c'è un malato il malato va isolato loro loro parlo del nostro governo che il governo dovrebbe fare le veci del popolo non si sono neanche posti il problema pur sapendo che a gennaio stava per arrivare questa cosa qua hanno dichiarato un'emergenza e non ha fatto niente è chiaro che dopo sei impreparato guarda sono scollegato anch'io dal governo da tutto non ho nessun tipo di problema dietro però comunque non ha trovato impreparati soltanto gli italiani ha trovato impreparati il mondo stiamo contando centomila vittime in America che è il paese col più grande brand del mondo cioè io credo che forse poche persone avrebbero potuto capire che questo era un virus che dilaniava in così poco tempo ma detto questo che poi lo lasceremo ai posteri perché più o meno dovremmo fare delle considerazioni non sciogliamoci sul fatto che a me i complottisti stiamo un po' sulle balle ma voglio dire viviamo in concreto quello che lo sport può fare ci hai detto che è il mountain bike che può essere una occasione come può essere il BMX come la pista noi vogliamo che lo sport riapra sì e io ti dico secondo me la mountain bike per come puoi viverla non parlo adesso di livello economico quello è la cosa più preoccupante ma questo per qualsiasi persona attualmente pensa in Italia o quasi a livello pratico quando i contagi sono a zero e finiranno così e a livello anche tipologia di gara perché l'assembramento in partenza ci può anche stare ma lo sai anche tu che comunque alla fine è una gara abbastanza individuale a livello pratica sarebbe molto più facile gestire la situazione e sono contento e sono contento che hai dato la tua almeno una idea e possiamo confrontarla con i nostri telespettatori Martino speriamo di vederci sui campi di gara più presto e ti ringrazio io lo spero altrettanto io intanto mi tengo come sempre in forma purtroppo non so quando sarà questo giorno male che vada ci vedremo nel ciclo cross spero di no dai io spero di trovarci intanto che si possa fare sport grazie Martino ciao ciao bene chiarito questo aspetto cara Ileni abbiamo sentito anche il buon Martino sta di fatto che noi abbiamo cercato di cavalcare una onda anomala e l'abbiamo fatta nel massimo rispetto ti voglio dire anche se ti faccio la domanda cosa pensi del calendario ipotetico sempre ipotetico e tutte le polemiche che gli vanno a navigare ma io penso che le polemiche in questo momento di emergenza non stanno lasciano il senso che trovino che trovano perché comunque è normale ed è plausibile che in tre mesi non puoi far contenti tutti è normale ed è plausibile che ci sono anche degli interessi economici dietro molto grossi che supportano però tutta una serie di fattori che sono collegati al ciclismo ne farà ad esempio il cross sarà quello che ne farà le spese più alte di un calendario di questo tipo però leggere sì ma i corridori come faranno cioè stiamo in un momento di emergenza io sono contenta che abbiano una bozza di calendario perché ci sono alcune categorie che la bozza del calendario proprio neanche ce l'hanno quindi il fatto che ci siano tante corse tutte concentrate si sa le squadre sono da 30 quindi sicuramente si farà la tripla attività non vedo tutto questo grosso problema è un anno diverso c'è la possibilità per una seconda linea o per un ragazzo giovane magari di arrivare davanti a una corsa che non sarebbe mai arrivato quest'anno c'è un anno è come l'anno post guerra la stessa identica cosa certo sulla linea che la domanda che ho fatto a Di Rocco tra poco la sentiremo è chiaro che il calcio beneficia della massima visibilità però io temo che se non parte il calcio non parte nulla perché a pioggia finanzia 314 discipline sportive assolutamente è una cosa che magari molto spesso passa un po' in secondo piano in sordina ma dal punto di vista del finanziamento di tutta l'attività sportiva il calcio è fondamentale ma anche dal punto di vista della fruizione dei diritti televisivi nessuno ne parla di questa cosa però ricordiamoci che le gare se restano fine a se stesse non sono riprese da una televisione non le caga nessuno e quindi non c'è pubblicità scusate scusate il francesimo non c'è sponsorizzazione non c'è niente bisogna anche tener conto di questo quindi ovviamente telegrafica la domanda che farò e vorrei che tu mi rispondessi ma il tour è stato beneficiato grazie ai cespoli però il tour sì ma quanti soldi muove il tour quante aziende stanno dietro al tour il tour comunque in questo momento è il purtroppo per fortuna loro è il centro del ciclismo su strada e tra l'altro è l'unica corsa che viene distribuita in tutto il mondo a differenza di quasi tutte le altre quindi è normale che se devo salvare prima salvo colui che mi mantiene e che fa girare tutto il resto e poi è brutto lo so che è un discorso molto di sopravvivenza però è così ragazzi io ringrazio il cielo di non essere stato presidente della federazione ciclistica italiana e vicepresidente dell'UCI perché bisogna avere lungimiranza le critiche l'abbiamo detto un anno veramente terribile difficile le critiche e già capire fare il toto la toto politica ragazzi veramente fly down alibas e stiamo cercando di portare un discorso che sia più coeso e soprattutto che è condivisibile per tutti come ha detto Liliana Lazzaro penso che lo replicherà in qualche maniera il nostro presidente Renato Di Rocco grazie presidente per essere qui con noi anche oggi è un'emergenza ho bisogno di chiederle alcune cose intanto come a tutti chiedo come sta beh come sto molto bene devo dire c'è entusiasmo c'è tanti contatti telefonici ovviamente ormai si privilegia il rapporto via webinar come si dice via call per cui tutta la giornata la consumiamo guardandoci in faccia ma a distanza però devo dire che si registra come immagino lì da voi tantissimo entusiasmo tutti hanno voglia di riprendere a pedalare ci siamo riusciti adesso di riprendere a organizzare gli eventi e questo insomma è il nostro spirito la federazione esiste perché esistono le società sportive che la costituiscono e i tanti atleti che hanno ripreso a pedalare sperando che lo facciano sempre più soprattutto i più scalmanati in maniera virtuosa rispettando le prescrizioni del governo lo stiamo lo stiamo cercando di fare di dare un nostro contributo presidente la domanda è intanto per sgomberare il campo da ogni tipo di polemica perché mi pare tanto in questo momento qua insomma ci vogliono mettere un po' la politica davanti a oggi dobbiamo mettere davanti a le esigenze dello sport totale tutto e quindi la domanda è doppia ma lei darà una risposta sola perché abbiamo 5 minuti se si ferma il calcio si ferma il mondo dello sport chiariamolo questo perché il calcio fa gocita e comunque dà tante risorse anche all'ultimo degli sport olimpici tanto per dire il curling quindi non demonizziamo la seconda domanda è chiaro che alcuni sono rimasti un po' male perché il tour fa gocita tutto quanto vero però bisogna anche pure fare una considerazione che il mondo del tour lo reclamano tutti i brand tutti i marchi e anche i corridori è la proposta diciamo più importante a livello mondiale nel calendario normale quindi in emergenza vorrei sentire il suo il suo parere anche come vicepresidente dell'unione ciclistica internazionale grazie Nicola una bella domanda ma ovviamente i primi a essere dispiaciuti siamo noi però non è che non sia stata una mancanza di riguardo diciamo che dobbiamo evidenziare che questo è un anno straordinario estremamente particolare il tour rappresenta il 45% dell'impatto mediatico a livello mondiale e sono state proprio le 18 squadre del Voltour a dire per noi il tour è essenziale dopodiché viene tutto il resto ovviamente tutti i corridori anche quelli che saranno applicati a fare il tour ma ripeto in questa condizione sarà difficile fare per ogni corridore almeno due corse a tappe come poteva avvenire quando c'erano le distanze delle cinque settimane e per cui io credo ho già sentito proprio questa notte in diretta a Pernaldi se io farò solo il tour non riesco a fare nemmeno la volta perché ovviamente anche per loro avere concentrato la stagione da settembre diciamo agosto per quanto riguarda l'Italia fino a fine ottobre perché poi anche avevamo detto di aprirla fino al 15 dicembre forse lo faremo per gli under in altre attività a livello nazionale però a livello internazionale le stesse squadre chiedono di fermarsi alla prima domenica di novembre per cui sono esigenze di tutti gli stakeholder delle squadre dei corridori e degli organizzatori per cui ovviamente nel momento in cui il giro come scelta aziendale ha chiesto la federazione e l'abbiamo sostenuto e l'abbiamo ottenuto di rimanere su quattro settimane ovviamente si veniva penalizzati in qualche altro aspetto la Uelta che doveva partire dall'Olanda non è partita perché l'Olanda ovviamente ha detto di no al pari di quello che è successo per noi proprio in questi giorni con l'Ungheria almeno quelle quattro giornate potevamo evitarle magari partire al martedì partendo al martedì avremmo liberato quel weekend che forse fra tutte le classiche è quella che ci dà più fastidio perché è quella più adatta ai corridori italiani dove ovviamente c'è una buona speranza sulla Roubaix ovviamente il fastidio ma non è un fastidio solo per gli italiani è un fastidio per tutti i tifosi del mondo perché avere tre eventi nella stessa domenica ovviamente fastidisce tutti perché avere la fine del giro la Roubaix e poi la prima settimana della Uelta ovviamente non è penalizzato solo il civismo italiano bisogna capire le cause per cui siamo arrivati con costrizione a scrivere un calendario in questa maniera ma chi lavora nel settore lo conosce benissimo si è voluto privilegiare le quattro settimane e soffrire qualche concorrenza poi piano piano con il calendario italiano che magari già in questi giorni stiamo trasmettendo all'UCI penso entro il 20 verrà definito e sistemeremo molte cose avremo un bel calendario che garantisce una buona visibilità a tutti gli sposo delle squadre poi il calendario prioritariamente come dici te è professionesio però noi abbiamo 3420 di tutti gli altri settori che hanno la stessa degnità che per la federazione devono avere la stessa equità di visibilità e di opportunità per essere riprogrammate organizzate e svolte ed è questo che mi trova esattamente in linea con il suo pensiero presidente io intanto la ringrazio se non le dispiace settimana prossima mi piacerebbe fare un cappello su tutte quelle che sono le varie discipline tu cur capire dove andremo a finire sempre virus permettendo perché qua stiamo parlando sempre di ipotesi noi ci auguriamo tutti che tutto possa ripartire al più presto quindi io la ringrazio tanto e ci sentiamo settimana prossima se non le dispiace assolutamente sempre a disposizione comunque nel nostro scenario la ripartenza di tutte le categorie è fissata per il mese di agosto non escludiamo nel caso si presenti un'opportunità e dopo l'emissione del decreto che attendiamo per il 18 maggio se considerano gli eventi forse anche da me da luglio o l'ultima settimana di luglio insomma laddove è possibile dare speranza in sicurezza assoluta rispetteremo a volere per le nostre società si è distinto in questo da tutte queste settimane che ci siamo sentiti caro presidente la ringrazio Renato la ringrazio buon lavoro un saluto a tutti i vostri ascoltatori grazie infinite danger security breach this is not a drill a tutti A presto. A presto. Grazie al nostro Presidente, ci tiene compagnia, stiamo cercando di fare da cassa, da megafono. Hai avvicinato Mirko Celestino, prima hai detto una cosa che non mi piace da una parte, pagherà il Ciccocross, io ho un'idea che ho avuto ancora dall'inizio, salviamo quello che è salvabile, però siccome ottobre non è proprio dopo domani mattina, le cose dovrebbero essere stabilizzate, salviamo il Ciccocross. Sì, però sai Nicola, il problema è che dal punto di vista internazionale con tutte le classiche, tra l'altro organizzate dagli stessi organizzatori della maggior parte delle prove di Coppa, che altro non sono, che le gare storiche in Belgio e Olanda, gioco forza, bisognerà cambiare un Nini il calendario. Tant'è che proprio in questi giorni è uscita anche un articolo con un'intervista a Sven Ness, che ha fatto un po' della cassa di risonanza in Belgio, perché? Perché chiaramente Verbecken e tutti gli organizzatori che fanno capo alle gare internazionali in Belgio hanno detto, chiaro e tondo, il Ciccross sarà in difficoltà con questo coronavirus, corridori, non potete aspettarvi gli ingaggi che avevate lo scorso anno, dovete un po' abbassare e anche accontentarvi, perché comunque è già un miracolo se riusciamo a fare tutte le gare. E questo, sai, io penso che sia una questione di comunque cercare di salvare la stagione. Io temo per il Ciccross italiano, perché è già abbastanza deboluccio, hai capito? Sai, il Ciccross italiano è già diverso, perché poi bisognerà capire cosa succederà poi nei primi mesi invernali, bisognerà capire se c'è un vaccino, se non c'è, può darsi che si debba trovare una formula diversa al Cicross a cui siamo abituati, non possiamo saperlo, perché, ripeto, siamo ancora in fase 2, non è che è finito tutto, però bisogna adattarsi, questo io volevo lanciare come messaggio, bisogna adattarsi, quindi, io la vedo così, l'emergenza non passa molto bene, abbiamo fatto un po' di scuola, di quello che è successo, cerchiamo di non farci trovare impreparati. L'emergenza non dovesse passare, oppure l'emergenza ritorna, ok, cerchiamo di tenere lo sport attivo, cambiamo le formule, non sarà un Ciccross di 40 minuti per tutti, sarà un giro, ma io sono convinta che piuttosto di non far niente è meglio anche fare un giro, parole sante, parole sante, parole sante, parole sante, questo è perché dietro alle gare ci sono le squadre, ci sono gli atleti, ci sono gli organizzatori, ci sono le televisioni, ci sono le aziende, ci sono tutta una serie di persone che lavorano dietro. E credo che le aziende quest'anno capiranno la sensibilità da cui dovranno attingere per poter dare una mano agli organizzatori, noi ce l'auguriamo, adesso sentiamo la bella intervista a Mirko Celestino. Bene, siamo con Mirko Celestino, cittadina nazionale di mountain bike, ciao Mirko innanzitutto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora Mirko, oggi è una puntata quella di Scratch totalmente dedicata al fuoristrada, abbiamo parlato anche con Renato Di Rocco, qual è il punto per quanto riguarda i calendari del fuoristrada, perché abbiamo visto che è uscito il calendario pro donne elite e elite per quanto riguarda appunto le discipline della strada, nel mountain bike continuiamo a vedere gare che saltano praticamente settimana dopo settimana. Hai qualche aggiornamento da darci? Sì, purtroppo come hai già anticipato tu, sono saltate parecchie gare, soprattutto anche quelle internazionali, le coppie del mondo, di conseguenza è stato tutto un ribaltamento, un rivio di date. Comunque sul sito della federazione è in costantemente in aggiornamento il calendario, quindi uno si può anche documentare tramite il sito della federazione. Il 15 maggio, quindi venerdì, l'UCI ci darà informazioni appunto sul calendario, quindi dobbiamo aspettare il 15 maggio anche noi per avere poi delle certezze in più su delle date. Dal punto di vista dei protocolli di distanziamento e di sicurezza, non trovi che il mountain bike, soprattutto il cross country in questo caso, piuttosto che, mi viene in mente l'eliminator ad esempio, possano essere veramente un'alternativa veloce per ripartire. Anche il downhill, se proprio dobbiamo guardare, perché comunque non sono sport di massa. Diciamo che si possono controllare, magari trovando anche delle formule diverse, che ne so, giro cronometrato, piuttosto che insomma una formula un po' diversa, piuttosto che non partire, penso che ne abbiate parlato anche in federazione eventualmente, di trovare una possibilità diversa, insomma. Certo, ecco, come si è detto più volte appunto, noi del settore del fuoristrada, io ti parlo di mountain bike, ma di conseguenza anche le altre discipline, siamo un po' più facilitati, basta un sentiero, basta una collina per riuscire a farci anche gli allenamenti individuali, quindi non abbiamo bisogno, non abbiamo l'esigenza di fare degli allenamenti di gruppo o allenarci tutti in un sito come può essere appunto quello della pista. E quindi sotto questo punto di vista qua siamo un po' più tranquilli. E di conseguenza anche con le gare, le gare si potrebbero appunto iniziare a svolgere con delle piccole cronometro, con dei circuiti cronometrati individuali, tipo Team Relay, queste soluzioni. Quindi stiamo lavorando anche per quello, per cercare una soluzione per la ripartenza, anche perché sì che gli atleti hanno voglia di pedalare, di gareggiare, ma ancora più importanti sono le società, sono le società che hanno bisogno di ripartire per dare anche delle spiegazioni, delle motivazioni agli sponsor, che di conseguenza pagano per far sì che queste squadre possano andare in giro piuttosto che garantire anche un piccolo stipendio agli atleti. Ecco, è tutta una ruota, no? Assolutamente. Allora auguro anch'io che al più presto si possa partire. Sicuramente stiamo lavorando anche per questo, ma come ti ho detto fino al 15, fino al 15 dobbiamo aspettare un attimino anche le indicazioni per questo calendario dall'UCA. E i maratonetti? Perché a mio avviso il marathon sembra come nei gran fondo del resto, no? Sembra un po' il settore più penalizzato, perché comunque crea assemblamenti, perché comunque si corre sempre vicino a tanti appassionati, tanti tanti amatori e trovo un po' utopistico pensare a un organizzatore italiano che organizzi una marathon per 40 elite e 20 donne elite. A te cosa ne pensi? Eh sì, poi nel mio piccolo ho organizzato anch'io qualche cosina, quindi capisco le problematiche che ci sono a organizzare una gara. Ancora di più una gran fondo, dove non solo gli elite possono partire come ben sappiamo, ma anche tutta la massa, quella importante del nostro settore, no? Gli amatori che partono in centinaia e centinaia e lì è un po' più problematica, sì. È un po' più problematica, sai, il cross country ci svolge in un circuito, lì puoi utilizzare diverse strategie, piuttosto che anche organizzative. su una marathon è un po' più complicato, sì, è un po' più complicato. Anche perché muove, forse, sì, muove anche più gente. Assolutamente. Allora Mirko, ultima domanda. C'è stato, c'è il sogno Olimpiade nel 2021. Com'è stato il programma fino ad ora, ma soprattutto cosa si farà prossimamente? Perché, appunto, c'è una seconda possibilità di agguantare una slot anche per la seconda donna, quindi quale sarà il programma da qui ai giochi olimpici del 2021? Sì, come hai detto tu, questo sogno olimpico ci è stato un attimino allontanato per un po' di tempo e quindi dovremmo sudarcela ancora di più, nel senso che gli atleti sul campo, io come commissario tecnico, perché con tutta la mia storia da ciclista, non ho mai partecipato in Olimpiadi, quindi per me questo qua è un sogno che spero che si realizzerà presto. Con i ragazzi siamo partiti veramente bene quest'anno con un ottimo programma. Abbiamo messo in programma e sono stati fatti un ritiro all'Isola d'Elba, appunto con i ragazzi interessati per il progetto olimpico, piuttosto che due gare, due gare svolte. Una l'abbiamo svolta in Spagna, a Barcellona, una gara singola di cross country e dopo ci siamo spostati con gli stessi ragazzi a Cipro per una gara tappe di quattro giorni. Il nostro obiettivo era appunto quello di continuare a consolidare il nostro vantaggio sulla Francia, quindi nell'ambito maschile in seconda posizione e cercare di guandagnare, a guantare almeno la settima posizione con le donne. Tutt'ora siamo ottavi e quindi il nostro obiettivo è entrare nelle sette per garantirci anche la seconda donna. La strada stava andando veramente nella direzione giusta. Purtroppo questo stop ci ha fermato un po' tutti. Adesso siamo tutti nella stessa barca, dobbiamo ripartire tutti e vediamo un attimino. Vedremo anche un attimino, come sai benissimo, hanno congelato i punteggi a marzo e vedremo anche quando li riapriranno. Magari, non so, potrebbe essere un'ipotesi, quella di riaprirli a marzo del 2021, continuare come se ci fosse stato un anno zero. Comunque vedremo un attimino, appena si calmerà la situazione, sembra che stia andando sempre meglio e quindi siamo tutti fiduciosi. Però dobbiamo lavorare per tornare alle gare, per tornare almeno a trovarsi sui campi gara e a svolgere, anche se non nel cross country vero o la marathon vera, cercare di trovare una soluzione per fare in modo che il nostro movimento continui ad andare avanti. Assolutamente. Mirko, io intanto ti saluto, però comunque ti do appuntamento nelle prossime settimane, perché magari con un calendario alla mano possiamo cominciare a fare anche dei discorsi interessanti, per noi e anche per chi ci guarda, va bene? Certo, va bene. Grazie mille. Ciao, grazie. Ben rientrati amici telespettatori, un saluto va al nostro amico Roldano Brion, le condoglianze per la perdita della sua dolce moglie, non le abbiamo conosciute, so cosa vuol dire quel tipo di sofferenza, caro Roldano, ci siamo tanto, tanto, tanto vicini e siamo sempre qua, perché noi siamo amici delle buone persone e tu sei una di queste. Chiuso questo, perché sennò veramente voglio chiudere con un po' di allegria. Noi diamo l'appuntamento settimana prossima, bene Celestino ha detto, ci dà speranza. Cari Lenia, l'appuntamento l'abbiamo visto, è con Canal Italia 84, oramai da un decennio, però abbiamo anche... Il 259, Canale Bike, domani, quindi giovedì alle 21. Quindi voglio dire, l'offerta sta andando avanti, in tempo di crisi abbiamo avuto, ecco, quando si dice si fa del bene, esce dalla porta, ma ti rientra dalla finestra. Assolutamente. Ringraziamo gli amici di Bike che ci hanno ospitato per questi mesi di pandemia e cerchiamo noi di essere pandemici con le buone notizie, soprattutto con il bel viso di Lenia Lazaro e le sue 500.000 persone che hanno guardato il suo video meraviglioso. Non abituatevi però, non è che adesso parlo in dialetto. No, piccole chicche, poco alla volta, ma lei sa come gestire, grazie Lenia. Grazie a voi. E che non sanno che si fa la butta, tu sai tutto. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca al spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 21 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca al spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com www.epocaspa.com Grazie a tutti!